Spesso le cose migliori nascono in stato di necessità, specie quando si collega la testa al cuore e si agisce a fin di bene. In casa Porcini, dove il talento regna sovrano in diverse generazioni e a svariate latitudini, è successo poco prima del lockdown. Alessandra, infermiera all'ospedale di Varese, si vede costretta a vivere giorno e notte con la mascherina, al lavoro per ovvi motivi, a casa per precauzione. La cosa non va giù ai due bimbi di casa, Nicolò e Sebastian, e lì entra in gioco la visione di Stefano, professione designer. I bambini all'inizio erano profondamente scossi perché vedevano una situazione di terrore negli occhi della mamma, preoccupazione, e poi la mamma che da un giorno all'altro non poteva più abbracciarli, non voleva più abbracciarli. In più doveva vestire questa mascherina chirurgica e... Sì, mio figlio la prima volta che l'ho messa a casa me l'ha strappata dalla faccia e si è messo a piangere. Questa cosa è stata veramente brutta perché, come spieghi a un bambino di due anni e mezzo all'epoca, che la mamma lo fa per il loro bene perché ha paura che lavorando a contatto con persone malate possa portare a casa qualcosa. All'inizio, devo dire, è stato veramente complicato. Lui me l'ha un po' alleggerita la cosa. Quindi fondamentalmente l'idea subito che mi è venuta in mente è il pensiero. Come mai il termine mascherina? Come mai il termine mascherina che riporta, soprattutto ai bambini, un mondo fantastico di supereroi, di gioco, carnevale e quant'altro, se indossata sugli occhi è qualcosa di molto positivo. Mentre indossata 10 centimetri più in basso rappresenta paura, rischio. Ho pensato ad applicare tutta una serie di grafiche fantastiche, di supereroi, di storie fantasiose, sulle mascherine per adulto dedicate a tutto il personale sanitario, ma non solo, che doveva fare auto isolamento in casa. Quindi subito ho chiesto a mio padre, che è un artista, di disegnare tutta una serie di immagini legate al mondo fantastico dei bambini. In questo caso quella che indosso è Sebastia e Nicolò, pirati che combattono nell'oceano, oppure un mondo fantastico legato al mare. E tanto altro, divertente, variopinto, adatto a grandi e piccini, con le soluzioni per i bimbi dei sei anni in su e quelle per gli adulti, che possono puntare sul colore, sulla fantasia, oppure sulla riproduzione del proprio viso stampato sul dispositivo. Ne è nato anche un nuovo marchio, Ask for a Mask. Il tutto, naturalmente, non è solo bello, ma anche tecnicamente impeccabile, grazie all'interno di cotone e al filtro, che supera il 99% di efficacia, complice alla sinergia che Stefano ha trovato con la MCC Project, ditta di gallarate, che in piena emergenza si è riconvertita per produrre mascherine. È una cosa che doveva veramente togliere la paura nei bambini. La cosa divertente con i miei figli è stata proprio, cosa metto, quale metto oggi, quindi loro sceglievano la mia maschera. Per cui è stata una cosa veramente accettata in maniera molto positiva. Insomma, si è fatto di necessità virtù, trasformando la paura in creatività, divertimento, volano di impresa, perché quando il nemico incombe, il modo migliore per batterlo è spiazzarlo, stupirlo, affrontarlo e prenderlo in giro.